Signori, l'ultimo video di Nighthood, il gioco per mobile che al momento sta spopolando e non poco, vi è piaciuto tantissimo, avete lasciato un sacco di mi piace, un sacco di visualizzazioni e sono molto contento. Per questo vi porto un secondo episodio e tra l'altro volevo raccontarvi delle cose perché mi hanno contattato gente, mi hanno messo in gruppi vari, in caso ve lo spiegherò durante il gameplay. Tra l'altro in questo episodio andremo a battere il boss della seconda isola, quindi ci sarà parecchio da fare. Come potete vedere siamo nella schermata iniziale, vediamo la gilda cosa dice, niente interessante, tutti che si salutano, prima di ritirare il forziere e prima di fare il tutto voglio andare appunto dal boss e picchiarlo un pochino. Ora, non so se avete mai visto il boss della gilda, come funziona, come non funziona, praticamente tu vai lì, lo mani come se non ci fosse un domani e più danno gli fai meglio è. Ovviamente è impossibile batterlo da solo, sono sette fasi, non ce la si fa, però ci si prova. In generale più danno fai meglio è, quindi ora sta iniziando, vediamo, vi faccio vedere anche l'animazione iniziale, Dagon è il suo nome e come vedete è bello cattivo. Quindi, esatto, vedete, si divide in fasi come delle battaglie normali, ora voglio vedere quanto danno gli faccio, in realtà neanche troppo, però ci si accontenta così. La prima fase è fattibile, le altre sono un pochino più scomode, già dalla seconda mi sa che ci moriamo. Ok, come vedete adesso non ci sta facendo praticamente nessun danno, siamo abbastanza, o meglio, decisamente più forti di lui, non ce n'è anche bisogno dell'ausilio dei miei eroi. Ora, voglio usare questo qui che è il tipo nuovo, Victor, l'ho sbloccato da poco, che fa una sbrega di danni. Usiamo anche questo, va là così almeno mi si carica il potere e nel turno dopo, meglio nella fase dopo, possiamo utilizzare il pugno. Perfetto, la prima fase è andata liscia come l'olio. Ora, ora, c'è il difficile. Vedete, fase 2, potenziamento del boss. Ma non è che si potenzia di poco, cioè proprio diventa una bestia totale. Vediamo quanto, più che la vita è il danno che ci fa. Allora, noi nel dubbio usiamo il pugno e facciamo... Lei, dai. Intanto è indifferente, nessuno dei due efficaci. Non ho ancora sbloccato né armi né eroi efficaci contro i troll, ce ne faremo una ragione. Sono proprio curioso di vedere quanti danni mi fa. Eh, una sleppa, più che altro fa due attacchi. Allora, non so, forse arriviamo sul filo del rasoio per batterlo. Nel dubbio ho sbagliato perché avrei dovuto prendere la tipa che Anara, mi sembra che si chiama, che tra l'altro ci cura. Quindi almeno saremmo potute resistere un po' di più. Adesso non so se ce lo facciamo, speriamo di sì. Tra l'altro io sto usando il pugno perché il pugno è forte contro l'armatura. Mentre la spada, o l'arma, l'ascia, l'ascia, il martello, quell'arma che avete, è forte contro la vita normale. Eh, i danni ce li sta facendo e non pochi. Avrei dovuto prendere Anara, sì. Però se io ora uso lui, forse ci dà la vita, oddio non mi ricordo, sì. Guarigione mentale, perfetto, sì, perfetto. 500 di vita in più. Che schifo non ci fa. E poi, dopo aver preso 500 di vita, andiamo a tirare le sberle. Se ci va bene, la superiamo la seconda fase. Altrimenti... No. Cosa? Ci sta tirando una barca in testa! Ci ha shottati? Ok, era... Guarda come se ne va, tipo cazzo mene. Va bene, però va bene. Vedete quanta vita gli abbiamo tolto? E ora il resto... La gilda penserà a fare il resto. Bon, iniziamo bene, dai, iniziamo non male. Ora, continuerei con la storia, appunto, perché vi volevo far vedere un paio di cose. Intanto mi do una sistemata, tolgo qui, altrimenti mi si blocca tutto. Perfetto. E ci siamo, ci siamo. Come vedete, ci sono delle cacce da fare. Qua c'è la forgia dei nani, che vi faccio vedere. Tra l'altro, Brock e Sindri, per chi ci avesse giocato, sono i nani di God of War. Sono gli stessi nani, questi due imbecilli, sono due fratelli, che appunto vanno a forgiare armi e armature. Non so se è un easter egg o una citazione. Fatto sta che, ora voglio farvi vedere una cosa interessante. Se prendiamo un'armatura bianca e la fondiamo con altre due armature bianche, più 500 monete, ce ne va a craftare, a creare, una verde. Esatto. Celata di Grindavik. Ok, la raccogliamo. Ora, stessa cosa, se noi ne prendiamo due verdi, cioè, perdon, una verde e altre tre da forgiare, come state per vedere, ci va a forgiare una blu di livello 11, livello 11 alla base, più ovviamente 2000 monete. Io lo andrei a fare, perché ovviamente il livello 11 è più potente di una normale, contro quelli a distanza, un po' schifo in realtà. Equipaggiamo per il momento. Ok, ho trasmutato, ce ne da una blu. Pesante, perfetto. Questa è ottima. La equipaggiamo subito. Potrei mettere anche le cose, le pietruzze lì. Non mi viene mai in mente il nome come si chiamano. Per ora basta, direi che va bene. Così, vedete che ho tutto blu. Perfetto, siamo molto contenti. Tra l'altro ci siamo anche potenziati. E adesso direi di andare dove c'è il coso del cavaliere e potenziarci ulteriormente. Perché altrimenti il boss non lo battiamo. Ok, dunque, facciamoci questa battagliozza. Vediamo cosa ci serve, le preparazioni varie. Allora, se non ho visto male, le bestie e i miliziani. Quindi i miliziani ce li abbiamo. Bestie in realtà... Non lo metterei lui. Cioè lui proprio non mi piace, questo qui è di livello 8. Quindi terrei questo qui e andrei in combatti. Ora, l'arma ce l'abbiamo a livello 16, però contro i demoni non serve più di tanto. Dovrei potenziarla in realtà. Vediamo se ce la facciamo. Speriamo di sì, soprattutto, perché ci rimarrai molto male. Tiriamo di qualche sberla in testa sto miliziano. Dai, i danni glieli abbiamo fatti. Potevamo fare di più, però ci si accontenta. Altre botte per lui. Oh, non è morto di un punto vita. Eh, ci fanno tanti danni in realtà. Ci fanno un bel po' di danni, però sinceramente li accetto. E tiriamo l'ultima sberlina in testa. È per questo che tra l'altro in questa fase di gioco, almeno per quanto riguarda i miei personaggi, serve un curatore. In questo caso ho preso lui. Cioè vedete i danni che ci fanno sono belli ingenti. Quindi il curatore, schifo, non fa. Usiamo la sua abilità. Vediamo quanto danno fa un sempliciotto. Decisamente tanto. Tra l'altro abbiamo mandato anche in stordimento. Perfetto. Quindi ora non ci attacca. Non perdiamo vita. E ce ne voliamo alla terza fase. Ovviamente dopo averlo picchiato. Perfetto, perfetto. Tra l'altro vi dicevo, vi volevo dire, che mi ha contattato un ragazzo che è andato... Fiuido che mega orso? Vabbè, dicevo. Mi ha contattato un ragazzo che ha fatto, ha creato la community italiana di questo gioco. E vabbè, ha fatto delle cose con gli sviluppatori, comunque è entrato in contatto con me. E appunto mi ha detto che mi voleva dare delle esclusive riguardo a questo gioco. Perché in questa community stanno creando una sorta di bot. Il quale vi dice le statistiche dei vari personaggi. Cosa è meglio, cosa è peggio, cosa è utile, cosa non è utile. Comunque è una sorta di wiki che schifo non fa, anzi è utilissima. E appena esce vi farò subito il video. E sono curioso di vedere il boss dopo quanti danni ci fa. Le farà una sleppa. Però vabbè dai, per ora concentriamoci su questa partita e l'abbiamo vinta. Allora, caotico, furfante, onesto mago, lorda, alta guardia. Ok, non so di cosa stiamo parlando. Nel dubbio faccio combatti. Perfetto. E appunto se lo uccidiamo ci sblocca la regione nuova. Così lo uccidiamo, sblocco la regione, ci salutiamo e poi farmo un po' e in caso appena mi danno notizie dalla community italiana ve ne parlerò. Quindi ti do il benvenuto nel mio castello. Arrivando qui hai dimostrato di aver talento ma il tuo viaggio è giunto al termine. Uh, anche lui è il guanto. Intiero della corona. Quante fasi? Tre. Aia. Vediamo quanto danno gli facciamo. Mmm. Mmm. Non troppo, eh. Non troppo in realtà. Più che altro voglio vedere lui quanto danno ci fa. Ma non ci fa neanche uno. Meglio. Meglio, meglio, meglio. Poi ovviamente, ovviamente, si potenzierà nella seconda e nella terza fase ma per ora di lusso proprio. Proprio di lusso. Usiamo lei che gli fa un botto di danno e vediamo soprattutto quanto un botto di danno. 332. Quindi vuol dire che ha un botto di vita. Sì. Ha una sleppa di vita. Una sleppa proprio. Ah, usa il pugno tra l'altro l'infamotto. Ah, sei proprio un pezzo di cacca di quelli belli potenti. Riutilizziamo lei, va? Che in realtà gli fa 160, fa 83, 84. Ok. Comunque anche lui ha quattro attacchi come noi. Perché appunto noi siamo degli eroi, dei cavalieri e dobbiamo, diciamo, eliminare tutti questi cavalieri corrotti. Ora è rimasto in vita per uno di vita e io devo perdere tutta sta vita per uno. Ora siamo ustionati e avvelenati. Cioè, peggio di così, non poteva andarci. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Usiamo il guanto. Che è ok, è morto. 7 di vita aveva. Perfetto. Ah, tra l'altro quel simbolo giallo concentrazione mi sa che ci aumenta il danno. Oddio, cosa si... Ci ha tirato un pianeta addosso? Ok. Però dai, facile. Cioè, sapete che è più difficile... Oh, si sta curando sto infame. Picchiero, picchiero. Sono state più difficili delle altre missioni che il boss finale. Cioè, strana sta cosa, però va bene, meglio per noi. Ora, a meno che non ci uccida in questo turno, il turno dopo lo eliminiamo. Non credo proprio che ci ucciderai. Addio, biacch. Addio, biacch. Finalmente l'abbiamo eliminato. Eh, fa ancora il figo? Sconfitto da un essere insignificante. E sia. Mi arrendo. Eh sì. È combattuto come un vero cavaliere della furia. Che appunto, ricordo, noi siamo dei cavalieri della furia. Esatto. Anche lui era come me, ma ormai... Immagino che il potere abbia sempre un costo. È tipo è stato corrotto dal potere. Però voglio un attimino vedere com'è Paludania. Sarà paludosa. Una terra di pantani, rane, magia e puzza insopportabile. Qui vive un mio vecchio collega, Sir Farquhar, quello di Shrek. Ehi, quanto lontano. Ok, tipo... È un fungo? Sì. Esatto, credo che è un fungo cresciuto a dismisura. Ok. Ah, lui è il cattivo. Perfetto. Facciamoci stare a fin lì lungo il cammino, incontriamo... Ok. Capitolo... Sotto. Capitolo otto. Perfetto. L'offerta non ci interessa. Bello. Paludania riserve grandissime sorprese. Ma per il momento, tra l'altro guardate quante zone anche di là, mi sa che ci sono. È lungo. Sto gioco è bello lungo e abbastanza interessante. Quindi, signori, questo era Nighthood. Spero che vi sia piaciuto. Porterò altri video, perché ho visto che appunto vi interessano molto. Mi sono potenziato, ci potenzieremo insieme. Vi ringrazio per la visione. Vi do appuntamento domani, alla solita ora, con un nuovo video. Ciao! Ciao!